Siamo qui nel padiglione 2.2 della Fruit Logistica di Berlino. Al padiglione 2.2 dello stand A2-A07 ci sono le migliori imprese ortofrutticole italiane perché il CSO Italy assieme a Dice, assieme a Italia Ortofrutta e assieme a Fruit Imprese organizza da oltre 20 anni questa manifestazione collettiva per presentare l'Italia al resto del mondo. Credo che sia un punto qualificantissimo in una fiera che è la più grande fiera ortofrutticola del mondo. Una fiera che si estende su oltre 80.000 metri quadrati, noi ne abbiamo 1.200 di quegli 80.000 ma una fiera dove vengono persone da 90 paesi del mondo e in queste due giorni, oggi e domani noi faremo una serie di eventi proprio per promuovere il consumo di ortofrutta italiana in tutti i paesi del mondo. Cominciamo con l'inaugurazione delle ore 11 e termineremo poi con la presentazione oggi di Futur Pera, la fiera della pera che si terrà a Ferrara nel prossimo novembre.